Il capistello cerca di riprendere la marcia contro un angolano in costante crescita, forte di un gruppo giovane e inesperto ma provvisto di talento che mette in campo sin da subito. In realtà il match non è godibile e fatica terribilmente a decollare ma inero-azzurro nel primo tempo e loro lo fanno e al ventitresimo si propongono con Nepa alla conclusione a lato. È una mezza occasione ma è sempre meglio di una non occasione, la palissiano ma tant'è e comunque l'azione con tutti i grismi poi arriva per i ragazzi di De Eugenio che al quarantaduesimo si propongono con Bizzarri che pesca indiaie, ficcante, quasi quanto di Girolamo che con efficacia uguale e contraria neutralizza la pericolosa sortita ospite. I Granata invece aspettano un'ora esatta per palesarsi e lo fanno con Pollino che pesca guino che la rete la prende ma purtroppo per il capistrello solo sulla faccia esterna. Salgono i padroni di casa e dopo due minuti ci provano con Capitan de Meis ma la conclusione è imprecisa. Cinque giri di lancetta e l'angolana torna a farsi vedere con Bizzarri frenato da Mario di Girolamo sia pur in due tempi. Un minutino appena e il giovane Panecasio conclude con costrutto ma non angolo a sufficienza agevolando la parata di Abate. Il batti e ribatti continua senza proporre niente di trascendentale e al trentaseesimo la palla passa di nuovo agli ospiti con la botta di Nepa che l'estremo di casa alza con i guantoni. È l'ultima occasione di un match destinato a non lasciare particolari tracce negli almanacchi calcistici del globo terraqueo. Pazienza. Misteriogici non è stata proprio la partita del secolo? No ma vabbè non possiamo fare sempre la stessa partita, non è facile perché il giorno di ritorno le partite sono più difficili, ci stanno i punti in palio che contano quindi non è facile. Poi oggi abbiamo affrontato secondo me una buona squadra come l'Angolana, sono venuti quasi, sono chiusi bene, soprattutto nel primo tempo. Credo che alla fine sia stata una partita equilibrata dove il pareggio è il risultato più giusto, anche se noi nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto qualcosa di più rispetto a loro, però credo che il risultato giusto è il pareggio. Mister De Eugenio, un buon pari e un'ottima prestazione? Sì, sono contento, abbiamo fatto in special modo quella di non possesso in maniera ottima, come sempre qualche gol mangiato di troppo che non ci fa fare quel salto di qualità, però tutto sommato la prestazione è stata ottima, il pareggio è un risultato giusto, il campo ha detto questo. Siete una squadra dal discreto atletismo e che comunque sta crescendo la distanza anche perché è squadra giovane a questa esperienza. Sì, infatti noi penso le ultime 15 partite abbiamo fatto un ottimo rollino, 12 partite, 21 punti, vittori con squadri importanti. Sono contento perché stanno crescendo a vista d'occhio questi ragazzi, molto giovani. Oggi un 2001 che sta crescendo tanto a Basciano sulla fascia, sono contento. Questi li stiamo preparando già per l'anno prossimo, quindi tutto va secondo la tabella di marcia. Grazie.